Qua è tutto morto, non c'è più niente, ma proprio niente, zero. E questo è il rumore della Moria delle Cozze, una crisi ormai annosa che i mitilicoltori di Taranto sono costretti ad affrontare. Non è pensabile che entro la metà di luglio già prodotto locale, prodotto tarantino non ce n'è più perché è morto, anche perché essendo poi un prodotto legato alla ristorazione non si può pensare che nei ristoranti non c'è più prodotto di Taranto. Luglio e agosto che poi sono i mesi che si consuma molto di più il prodotto, quindi dovremmo vendere maggio e giugno ma non c'è molto consumo. E purtroppo qua nel secondo seno il prodotto ha la scadenza, è un dato di fatto perché non è il primo anno, anche se quest'anno la perdita è stata molto molto grande, grossissima. Come state cercando di far fronte alle perdite della produzione? Non riesco ad immaginare anche come arrivare al prossimo anno e fare un'altra produzione, visto che i costi di produzione sono sempre più costosi. Le temperature record delle ultime settimane hanno scatenato un vero e proprio incubo nel Mar Piccolo, dove i mitili muoiono asfissiati a causa dell'acqua troppo calda. Sono ben visibili sull'acqua i filari con il prodotto non più raccolto, non più vendibile, ma il caldo non è l'unico nemico, un'ordinanza regionale del 2012 che obbliga il trasferimento delle cozze dal primo al secondo seno del Mar Piccolo ha creato un habitat sovraffollato in ospitale, aggravando ulteriormente la situazione. E mentre alcune cooperative rischiano di perdere oltre l'80% della produzione, gli abusivi che prelevano il prodotto dal primo seno ne approfittano vendendolo senza controllo e sotto prezzo. Tavoli tecnici di confronto sono stati richiesti al sindaco di Taranto Rinaldo Melucci e all'assessore regionale Donato Pentassuglia e una riunione del tavolo della mitilicoltura si è tenuta il 30 luglio, una situazione divenuta sempre più insostenibile che richiede interventi urgenti. Nel tavolo con la regione dobbiamo dire che l'assessore Pentassuglia è stato molto tempestivo a emanare il bando in aiuto della mitilicoltura ma che, dobbiamo chiarire, rappresenta una goccia nell'oceano perché è un sostegno, siamo d'accordo e ringraziamo la regione, però tenete conto che è meno forse del 10% di quello che effettivamente i mitilicoltori hanno perso. Mentre invece con il comune si è intavolato un discorso, abbiamo chiesto anche che venga finalmente eliminata questa storia dell'abusivismo nel Mar Piccolo e l'assessore ha promesso che avrebbe interloquito con il prefetto si sta interloquendo anche sul fatto dei canoni concessori 2023 e sembra che vogliano, ci sia la volontà da parte dell'amministrazione unica di proporre un bando a favore dei mitilicoltori che hanno questo ulteriore annoso problema e i mitilicoltori ovviamente sempre quelli regolari. Quali sono secondo lei le misure risolutive che dovrebbero arginare questa situazione ormai annosa? Allora la misura risolutiva, l'abbiamo sempre detto e continueremo a dirlo, è la bonifica del primo seno del Mar Piccolo che risolverebbe definitivamente questo problema perché poi il prodotto non sarebbe più spostato rimarrebbe dove è nato, dove crescerebbe nel primo seno del Mar Piccolo e faremo in tempo a venderlo prima che arrivi il caldo diventerebbe prima maturo e prima lo venderemmo ma sappiamo che questo ha comportato già tempi lunghi e comporterà tempi ancora lunghi seppur il commissario Oricchio si sta muovendo molto bene, temo che ci siano dei tempi ancora lunghi nel frattempo però sono anni che proponiamo, almeno per limitare i danni, un'area di stoccaggio in Mar Grande in una zona di Mar Grande, possibilmente sul Tarantola dove l'acqua è più fresca e più profonda e dove potrebbe essere stoccato almeno una parte del prodotto che oggi vediamo è morto Sono proposte che tornerete a fare le autorità competenti? Certo, l'abbiamo fatto anche nell'ultimo tavolo tecnico, l'abbiamo fatto con la Regione e sembra che finalmente si voglia prendere in esame anche questa proposta